Questo è un mondo molto particolare, molto particolare, in cui devo essere sincero adesso che ho un altro ruolo non mi trovo benissimo perché fare il calciatore è una cosa, fare l'allenatore è un'altra, però ho fatto delle esperienze incredibili, sono stato benissimo, veramente molto bene a Cagliari, come a Sassari, come a Genova, come a Torino, lo rifarei. Lo rifarei, però è un mondo molto particolare, è gestito da persone molto particolari, è un mondo fattato perché a parer mio, questo è un parer mio personale, ci sono troppi soldi, però ti dico che lo rifarei e devo essere sincero, quello che ho guadagnato non è quello che hanno guadagnato i grossi calciatori, ma sono veramente felice di quello che ho fatto e di quello che ho guadagnato.